quando è che hai visto i primi numeri? la prima che mi è andata a virale era su tiktok cioè virale poi ovviamente per uno che non fa numeri anche fare 20.000 al giorno per tutto il tempo è virale io parlo anche là io avevo un amico mio che era rumeno e mi portava questa codeina io ricino è rumena che adesso tu mi chiedi il nome non me lo ricordo però tipo mi viene da dire menabrea però è una bimba è una cosa del genere non fare battute su me non lo posso fare t'ho visto subito ma che nome è è una birra rumena ma è più era una birra rumena e ovviamente la lin questa boccetta di lin che mi arrivava non si chiamava menabrea quindi io è è una birra rumena